buongiorno a tutti oggi ci apriamo l'app super calciatori panini 2023 2024 con 42 figurine di cui 10 speciali più un coupon con un codice digitale solo 5 euro e apriamoci questa bustina e andiamo a vedere i primi le prime figurine abbiamo lo scudetto del monza scudetto della juventus scudetto del genova empoli la padula elite wea timoti wea della juventus la nuova firma 4 scudetti 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 la nuova firma simone romagnoli tre giocatori altri tre giocatori altri tre la squadra del cagliari il pisa tre giocatori altri tre 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 andrea cambiasso thomas della fiorentina della della dell'udinese den del bologna nico gonzale della fiorentina festi dell'udinese james del frosinone leonardo della roma lucas della fiorentina christian della fiorentina alexis del bologna mergim del torino mattia perin della juventus filipp costic della juventus alessandro florenzi del milan luca mazzitelli della frosinone samuel del milan sandy dell'udinese caleb del frosinone marin del lecce davide dell'inter nicola leali del genoa portiere della juventus questo ci manca mike del portiere del del milan e michel del bologna ecco tutti tutte le 42 e l'unica quella che ci manca è questa al prossimo spacchettamento iscrivetevi al canale attivate la campanellina e in più cliccate mi piace ai video per farli crescere vi auguro una buona giornata h24 a tutti alla prossima